Presidente Monti ormai si è candidato alle prossime elezioni, anche se non direttamente, ma darà il suo nome. A questo punto è un suo diretto competitor. Ecco, come vede questa candidatura di Monti? Ha contraddetto le garanzie che aveva dato all'inizio della sua avventura come Presidente del Consiglio. Aveva garantito al Presidente della Repubblica, a me, Presidente del Consiglio uscente e agli italiani, che lui non avrebbe profittato della pubblicità, dello stare sul pulpito in questo periodo di governo tecnico per poi presentarsi come protagonista della politica. Si è presentato, credo con una caduta di credibilità rilevante, l'ha fatto essendo già senatore a vita senza iscriversi nelle liste elettorali, ma assumendo il ruolo di leader della coalizione dei partitini del centro e mettendo fuori un programma scritto in gran parte dal giurlavorista del PD, Icchino, che adesso ha lasciato il PD, e un programma in quasi totale sintonia con il programma del Partito Democratico. Quindi manifestando in questo modo l'intenzione di fare da ruota di scorta al PD e di continuare quella politica di austerità che ha portato l'Italia in queste condizioni e che purtroppo, secondo la loro sensibilità, dovrebbe essere continuata.